Alcuni calcinacci sono caduti questa mattina da un cavalcavia della strada statale 16 bis in zona Capirro a Trani, precisamente da un ponte che passa sulla strada vicinale Moschetto. Le immagini mostrano un numero considerevole di parti venute giù e che hanno invaso l'intera carreggiata già di piccole dimensioni. Strada chiusa al traffico per accertamenti dalla polizia locale tranese intervenuta prontamente con i tecnici dell'ANAS che si stanno occupando di verificare le condizioni del cavalcavia. A loro supporto anche alcuni tecnici comunali comunque giunti sul posto. La buona notizia è che in quel luogo al momento del crollo non erano presenti cittadini in transito e dunque scongiurato il pericolo di ferimenti o danni. La cattiva notizia invece riguarda una problematica sempre all'ordine del giorno, quella relativa allo stato di conservazione dei ponti della strada statale 16 bis, anche e soprattutto quelli più isolati nella periferia cittadina. Verifiche in corso dunque e qualche disagio inevitabilmente lo avvertiranno i residenti della zona. In un tratto della strada vicinale Moschetto infatti si può accedere solo attraverso due piccoli cavalcavia. Uno è quello interessato dal crollo dei calcinacci di oggi, l'altro era già interdetto per alcuni lavori. Dunque al momento non ci sono altre alternative, una situazione che costringerà i tecnici Anas a velocizzare quanto mai tutti gli accertamenti del caso e porre in sicurezza il cavalcavia.